Grinch! E per questa vigilia di Natale un bellissimo saluto al nostro Grinch. Chi è questo personaggio? Non aveva idea, voglio dire. È un personaggio sputato da nulla grazie al talento e alla disponibilità e all'iniziativa di due ragazze fantastici che vedete qua alla mia destra. Ce le presenti? Sono Giorgiana e Caterina. Perché l'idea di questo Grinch? Perché il Natale è un personaggio che ci accompagna dall'infanzia. È un personaggio a cui tutti quanti siamo abbastanza apprezzionati, legati. Quanto tempo ci avete messo a fare il trucco? Allora in realtà lei è stata molto brava perché ha fatto le protesi, un po' con una grande lavorazione appunto del lattice in diverse giornate, per poi ricreare quello che è stato l'effetto finale e oggi non se fa. Il nostro motivo in realtà per cui abbiamo creato questo personaggio è perché vogliamo far conoscere alla città che sta rinascendo un po' adesso, con il fatto che sono nuove unità che sono in livello, la pulcheria all'Aquila. Soprattutto perché per chi è appassionato di apile ma soprattutto di sviluppo, c'è la possibilità di imparare a fare questi appunti speciali, facendo dei workshop e dei corsi di sviluppo all'interno della pulcheria. E poi Gianna sarà una delle dici insegnanti che farà parte di tutti i nostri. L'iniziativa è poi nata da questo progetto, è nata in comune, perché si sa anche che quando si riscono le forze, soprattutto se c'è una passione grande, questi cattivi sono sempre più grandi, sono belli. Spero, no? E tu non ti sei mai sentito così bello, vero? Io devo mettere che quando mi sono guardato la spesa questa mattina, prima mi sentivo brutto, completamente corroso dalla depressione e poi quando ho visto questa bellissima faccia nuova che mi hanno fatto queste freglie, ragazzi, qua io mi sono sentito... Come un Dio!